Ora avevamo rimasti Giorgio Pellegrini era fuggito da Padova in seguito da un mandato di cattura e dalla promessa di Rossini di trasformarlo in un altro braccialetto da esibire al polso In qualche modo era entrato in contatto con l'organizzazione di Slezza probabilmente con l'intenzione di inserirsi nel giro del narcotraffico La latitanza costa e i soldi non bastano mai Ma al momento di concludere l'affare gli animi dovevano essersi su riscaldati e lui aveva sparato per primo uccidendo tre uomini e svanendo nel nulla per l'ennesima volta Pellegrini è un essere immondo ma bisogna riconoscere una straordinaria bravura nel dileguarsi al momento giusto Ha un istinto innato nel fiuttare il pericolo e intiene sempre pronto un piano di riserva Anche Paz Annaia Vega, moglie di Slezza che è pezzo grosso dell'organizzazione e dopo il funerale aveva fatto perdere le proprie tracce Ma lei non era in fuga, era a caccia Voleva trovare Giorgio Pellegrini per vendicarsi E per iniziare a parigiare i conti aveva massacrato moglie e amante Non ha senso, boffonchiò Max, perché Pellegrini non si è portato via la coca Sul mercato valeva un patrimonio Dobbiamo capire se a Viena era già sul libro pago degli sbirri interviene il vecchio Rossini Non è escluso, commentai Per di guadagnarsi il paradiso dell'impunità Pellegrini e capace di tutto Max aprì il frigo e prese un vasetto di yogurt Allora si è trattato di un'esecuzione Per qualche motivo che al momento ignoriamo Era fondamentale che quei tre tizi morissero Un'altra buona ragione parla spagnola di sparire dalla circolazione Tema di fare la stessa fine Ma il desiderio di vendetta l'ha spinto a venire a Padova A frequentare le vittime, a uccidere in modo incontrante E questo è stato un azzardo, obiettario Sì, ma di poco conto, taglio a corto Rossini A livello operativo è stato tutto perfetto Secondo la dottoressa Marina E non dovremmo essere noi a scoprire A scoprire, a scoprire, scusate Pazzanaia Vega e i suoi uomini Vuole essere sicura che non sia arrivato troppo vicino a Pellegrini Considerò Beniamino Sfiorando i braccialetti con la punta delle dita Allo stesso tempo vuole creare la prova Di un presunto collegamento tra noi e la narcotrafficata Da esibire in tribunale E il testimone sarà proprio Pellegrini Lei rimarrà nell'ombra a godersi lo spettacolo La grande burattinaia sfiatò il ciccione con disprezzo Fumammo in silenzio Persi nei nostri pensieri I volti dei miei amici erano seri e preoccupati Conosciamo qualcuno a Vienna Domandai quando fui stanco di bagare Tra gli incubi di un futuro da Galeotto Il vecchio gangster era noi Pierino Marti Nenghi Sei sicuro? Chiese Max sorpreso Non si era trasferito in Danimarca Gli è durato poco Ora lavora in un hotel E si abbuffa di saccar torte Lavora Si è fatto furbo E non vuole attirare l'attenzione degli sbirri Locali Ma la passione per le casse forti È quella di sempre Sbircia il loro loggio E chiese al ciccione Di controllare l'ora di partenza Del primo treno per la capitale austriaca Capitolo terzo Non riuscivo a individuarli Ma avvertivo la loro presenza Gli uomini di seggi Balachian Seri Balachian E mi stavano aspiando Era la quarta volta Che l'armena Fissava un appuntamento Attraverso contatti Che se la prendevano comoda E poi non si faceva vedere Pagai il conto del bar E mi allontanò In direzione di Cappuccino Nersplatz Provocando una smorpe di delusione Sul volto di due tardone Mi avevano lanciato Occhiate languide Per tutto il tempo Che ero stato costretto A rimanere in quella Raffinata pasticceria Dal cazzo Non erano male Trasudamano Denare e classe In un'altra situazione Ne avrei approfittato Mostrandomi disponibile Galante allo stesso tempo Spragiudicato Proponendo una cosetta A tra con una sorpresa finale Che però avrei gradito Solo io Sarebbero rimaste così turbate Che avrebbero smesso Di frequentarsi Cercando di dimenticare Quanto era accaduto Con quell'uomo Affascinante All'apparenza innocua Così normale Non avrebbero trovato Risposta nemmeno Dai migliori Strizzacervalli Mentre io Avrei consegnato Solo bei ricordi Dei segni Indelebili Come cicatrici Lasciati Nelle loro esistenze Le salutai Con un sorriso Di rimpianto Era un pazzo Che non mi divertivo Ma la situazione Non lo permetteva Tutti mi tenevano Gli occhi addosso Sbiri italiani Criminali internazionali Mi sarei rifatto Si trattava solo Di avere pazienza Secondo il display Pubblicitario Di una banca La temperatura Era di 11 gradi Sato a zero Il freddo Non mi aveva mai Dato fastidio Ma rendeva La permanenza In Monaco Meno piacevole E non vedevo l'ora Di spostarmi Ormai Era arrivato Da oltre un mese E mezzo E mi stava annoiando Alla fine Balakian Si sarebbe deciso A incontrarmi Ma per i miei gusti Sarebbe stato Troppo tardi Mi infilei In un grande magazzino E seminei Due pedinatori Un uomo E una donna Che mi avevano Agganciato In Tumbling In Tumbling E da regattiera Al primo piano Di un palazzone A due passi Da Kafka Strab Meritavo di meglio Ma la marina Era tirchia Riteneva Che anche Nelle operazioni speciali Si dovessero limitare Le spese Stronza come poche Quella poliziotta Ma era stata L'unica a capire Che poteva essere utile Per trame complesse Articolate Su più piani Frutto di riunioni Estenuanti Così quando mi era Messo sul mercato Per trattare L'immunità Lei mi aveva Proposto Quella che All'apparenza Poteva sembrare Una missione Suicida In realtà Era il sogno Segreto Dei pezzi grossi Del ministero Ma prima di mai Non erano riusciti A trovare volontari Tra i criminali In vendita E da quanto Abbiamo capito Avevano sacrificato Inutilmente Un paio di agenti Nel tentativo Di infiltrare L'organizzazione Sbalacchiata Che poi Non era l'obiettivo Principale Ma solo un tramite Per arrivare A qualcun altro Di cui ancora Ignoravo l'identità La marina Non si era sbottonata Non si fidava Eppure Allo solo scopo Di rendermi appetibile Per quel tizio Avevo dovuto ammazzare Tre stronzi Di narcotrafficanti A Vienna Per oltre Quattro mesi Mi ero dovuto Fingere Una cliente di coca Alla ricerca Di fornitori Che non avessero Nulla Che vedere Con l'Italia Angela mi aveva Fatto imparare A memoria Una storiella Di scazzi Con le mafie Una mezza Stronzata A cui potevano Credere Sono dei malabitosi Austriaci Gente fuori Dai giri E poca vita A ricevere Fregatura Di un certo livello Massimo Carlotto Blusa Blusa Parcora Fornitori Fornitori Già Bacchia Putana Come Bacchia No 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 Grazie a tutti.